Allora, e fino adesso abbiamo parlato di trading card games, fisiche, reali, che tipo poi tocca con le mani Il cartoncino Che per noi gamer già sta cosa, tipo la realtà è una cosa che, boh, non ci va tanto a genio Però appunto c'è una versione anche digitale di... Fai la faccia alla persona che va a genio Perfetto No, 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 giochi di carte, cartacei no Oh, Giovanni, benvenuto e... Anche lei E bentornato Ah, finalmente, finalmente presso uno dei podcast penso più famosi della Lombardia non famosi ma più affiatati esattamente della Lombardia e della Lazio almeno top 100 podcast più famosi tra i primi 32 tra i propri fan tra i propri fan esatto e questa puntata andiamo a parlare di una cosa molto molto rilevante specialmente che sono i giochi di carte materiali che si chiamano trading card games trading card games che non conosco che tu assolutamente non conosci minimamente ma hai la... da piccolo ci giocavi? ovviamente giocavo a Pokemon e a Magic e a Yu-Gi-Oh diciamo i tre mostri sacri però era una roba cioè almeno io mi sono sempre vantato di essermi immerso in quasi tutte le culture e sottoculture nerd che sono state generate nella nostra storia da internet in prima in poi però... quella puzzava troppo per te e comunque io puzzavo mi sono sempre vantato di puzzare... l'ho lesso era potente eh appunto però non mi sono mai effettivamente addentrato e tu dirai micchia non ti sei addentrato e stai facendo una puntata sui trading card games hai ragione quindi io forse non sono la persona più schillata su questo argomento ma per questo avremo degli ospiti specialissimi ma tu hai la sensazione che i TGC siano... comunque abbiano subito un po' uno step up in termini di figaggio un rebranding diciamo proprio... da prima da... allora proprio fighi fighi no poi vedremo magari alcune scene iniziali per introdurre la puntata che effettivamente sono stati proprio delle milestone importanti per dire minchia ma siamo arrivati fino a questo punto eh sì però sì dicevo alle medie è quel momento in cui non è ancora da sfigati poi passi al liceo almeno la mia storia è stata questa e poi ho abbandonato completamente il gioco delle carte perché no hai detto no io con questa cosa non ci vado da nessuna parte no vabbè dopo cambia gli interessi poi vuoi uscire di casa vedere la luce del sole e perché oggi secondo te Magic sta avendo questo... questa rinascita facciamo un passo indietro è una sensazione mia o è vero secondo te? no vabbè un po' secondo me per quanto riguarda il boom degli streamer che sbustano su Twitch cioè è stato molto legato al fattore economico quindi queste carte hanno un determinato valore quindi di conseguenza se sbusti 5000 euro di carta ora sto sparando numeri a caso e ovviamente dove c'è il denaro c'è la figata e quindi ah che figo ho sbustato 5000 euro di carta no vabbè ho sparato un numero difficile però scusa se hai detto 5000 euro di carta vuol dire che queste carte hanno insomma un valore anche variabile eh certo sì sì ok nel tempo e per la loro rarità e per la loro rarità e soprattutto una domanda ma secondo te c'ha senso parlare in un podcast di videogame dei TGC? beh vabbè in podcast è ingiocabile e i TGC o TGC? Trading Card Games sono molto ingiocabili per quanto riguarda la barriera d'ingresso e di che hanno il loro la loro controparte diciamo digitale che quindi di fatto è un videogioco premesso che sono così ingiocabili e non dico difficilmente accessibili perché alla fine non credo abbiano un regolamento così incomprensibile però devi avvicinare devi capire come funziona, lo devi imparare, lo devi metabolizzare è una cosa che io non ho mai fatto a questo punto io ti dico chiamiamo i nostri ospiti e così ce lo spiegano loro bene benvenuti ai nostri ospiti Brian Lelly content creator se può dire come si dice? per adesso sì dai ma comunque appassionato, enorme appassionato di Trading Card Games sì, confermo, motivo per cui sono qui è molto divertente il fatto che tu sui social o comunque sulle piattaforme su cui in genere fai umorismo questa cosa la spammi però non è chiaro di che tipo di respons social abbia la tua fanbase alcuni sono presi bene quando vedono che c'è la carta X di un certo valore o la foto al torneo ah pure tu sei andato ah ok perfetto perfetto e mentre l'altro nostro ospite misterioso chi è? Kanye West ero qua a Milano non volevamo dire non volevamo dire secondo me ci gioca qualche gioco di carte però Kanye West secondo me ci ha giocato qualche gioco di carte con la Switch comunque ci sta la foto che entrava ma sì ma certo Giovanni Mazzoli voi direte è ingiocabile con tutti i sordi che avete fatto la stagione scorsa ma non vi potete permettere degli ospiti io potrei dare due risposte potrei dire abbiamo dato tutto il cash a Brian quindi ci dobbiamo fare gli ospiti oppure la verità è che Giovanni è effettivamente un enorme appassionato di trading card games in particolare di Magic the Gatorade abbiamo detto prima che i giochi di carte sono passati ad essere una cosa per sfigati o comunque considerati tali ad essere una cosa figa e la come direbbe Playboy Carty? Opium Opium esattamente a lui direbbe opium esattamente e c'è questo video che adesso vi mostro che mi ha fatto un po' ricredere questo è un concerto di di Machine Girl Death Could Be Does e c'è la gente che gioca Magic durante il concerto per te ok ma io vi invito a guardare un attimo le loro facce l'avevo mai visto loro stanno proprio un fissa e giocano a Magic vedi lui sta appena pescato insomma ha giocato una terra ecco quanto era una poserata e quanto non lo era esatto questa è la domanda ma sti cazzo ma è ovvio che sia una poserata però è assurdo il fatto che cioè tu devi fare una poserata e giochi a Magic è strano eh no esatto sì sì non so voi come ve la siete vissuta io penso cioè Brian non può ricordare gli anni 90 in cui di che anno sono 97 eh vabbè vabbè qualcosina si ricorda però voi avete avvertito questa cosa che oggi i giochi di carte hanno avuto un attimo uno step up a livello di si si ho mai giocato un frutello più grande che giocava pure a Pokemon un pochetto quindi c'è un po' l'ho visto beh io ho ricominciato tre anni fa forse ed effettivamente vabbè proprio con l'idea di non ho mai fatto un torneo Magic perché io giocavo le medie come dicevo dicevo prima però sulla ghiaia cioè capito così eh mancavo le sleeve forse è un formato è un falsetto giocavo il ghiaia e ho detto cazzo non ho mai fatto un torneo di Magic voglio farlo alla veneranda età di 30 anni e quindi mi sono messo d'impegno io ho scoperto un mondo effettivamente boh un sacco di possibilità un sacco di di contenuti anche cioè fatti da da gente da content creator qualsiasi a parte vabbè l'estetica di alcune carte i mercati dietro eccetera io penso che sia pure per il fatto cioè essere più cool adesso determinato dal fatto che hanno capito alcuni che i giochi di carte comunque c'è la matematica dietro ah ok quindi uno forte gioco a carte con chi lo fa guardi dire lo vedi ok sono sistemi comunque non è proprio un capito si non è per bambini non è proprio per bambini cioè non è si il lego che in realtà no chiaro come anche gli scacchi ultimamente sarà Queen's Gambit non lo so esatto sarà Covid però però c'è la gente così nel chill gioca a scacchi come scacchi quello online adesso non mi ricordo c'è spunto bomb ma saluto a Magnus Karsenung certo assolutamente salutiamo ci segue Magnus ciao Post Malone è un poser secondo voi? no è un padre no io so che lui cioè Magic l'ha quasi salvato che tipo si si no un Magic player mi aveva raccontato Trapper si faranno salvare da qualunque cosa pur di smettere di drogarsi ha preso male non aveva amici e grazie a Magic ha iniziato a far un po' di hai capito Side Baby io sta cosa so di Post Malone con Magic no non sapevo il dettaglio però effettivamente lui gioca proprio cioè non è una poserata gioca a un formato ripilante che non non definisco Magic che è il commander però comunque lo gioca fa i contenuti ed effettivamente si è comprato una cartina Post Malone si è comprato l'anello di Lord of the Ring uscito su su Magic pagandolo? 2 milioni e qualcosa però mi sembra maggiore uguale 2 milioni secondo me c'erano anche dei centinaia per questi soldi divento pazzo ma una banconota è meno lunga della carta del One Ring esattamente ma non solo c'è una quindi era letteralmente vabbè spieghiamo adesso che cos'è per i più anche se forse già lo saprete avete visto però diciamo era letteralmente il biglietto d'oro di Willy Wonka all'interno delle bustine di Magic che ha fatto una collezione un'espansione studiate con in collaborazione con Lord of the Ring magari manderemo anche il video di lui che lo sbusta che secondo me è da vedere da vedere praticamente all'interno all'interno di questa di questa espansione c'era l'unico anello quindi uno di uno la copia l'ha sbustata un canadese che evidentemente su tiktok c'è il video in cui lui trema perché l'ha sbustata e che tiene du milioni in mano sapeva che trema perché c'è stata un'asta se l'ha giudicata post Malone che non solo a quello ma anche un Black Lotus adesso non mi ricordo credo Alfa perché ovviamente post Malone firmato da Christopher Rush Alfa che significa? è la primissima edizione di Magic e io sapevo che ci sono state anche offerte più alte in realtà di quelle di Malone però però ha sparato tutti gli altri no la da Malone proprio questa cosa affettiva che aveva Malone nei confronti di Magic per quello non è proprio un poser a detta di un pro player di Magic d'Abruzzo guarda appunto proprio perché in questo momento sono diciamo quello meno istruito sulla materia io ti chiedo Giovanni se puoi raccontarci come è nato proprio il concetto stesso di Magic e anche di Trading Card Game perché è il primo è il primo sì 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 Magic fu il primo ideato da Richard Garfield diciamo lui aveva già fatto dei giochi da tavolo e voleva giocare e voleva lavorare con Wizard of the Coast che è poi l'azienda che detiene che produce Magic e Wizard aveva la necessità di creare un gioco che fosse portatile e fosse diciamo abbastanza facile da giocare nelle convention tra una pausa e l'altra e quindi delle convention di cosa? delle convention che fanno tipiche tipo ma di altri giochi? sì quando ci sono il Comic Con di turno salutiamo il Comic Con di turno di turno esatto non quello di Bergamo quello di turno soprattutto quello di Bergamo che ci ha ospitato comunque di turno perché il gioco si basa a turni esattamente è una città che si chiama turno in Italia no purtroppo no se no sarebbe interessante organizzarlo e quindi lui ideò questo gioco di carte un gioco di carte che inizialmente ovviamente non aveva le illustrazioni eccetera quindi era bianco con delle scritte tra l'altro queste carte esistono e valgono svariati euro ah sì cioè sono in giro sì i test per giocare insomma poi dopo gliel'hanno stampato eccetera è stato un boom della madonna nel 93 diciamo è uscita la prima edizione prima era lui che andava in giro appunto per le convention a insegnare a giocare quindi non c'erano manco le regole ma il ciò che ha contribuito nella creazione di questo formato di gioco quello della carta fisica tu mi dicevi che c'è anche un po' di heritage americano per cui andava forte il collezionismo ad esempio delle figurine di baseball esatto quindi esatto ha collegato diciamo training car game perché appunto è un gioco di carte collezionabili quindi c'è tutta la parte anche del collectible ed era già proprio intrinseca nella cultura americana con tutte le le carte sportive quindi classici giocatori che non conosco perché non seguo il baseball guarda io adesso ti chiedo di fare una cosa e cioè io non so nulla di magic adesso tu io metto un cronometro e tu in 60 secondi e dobbiamo dimostrare che il cioè le regole sono spiegabili in realtà la barriera di grassa è molto bassa e siete solo voi che non avete voglia di giocarli è ok allora se tu avessi 60 secondi per spiegarmi come funziona e convincermi ok ok dai 3 2 1 via allora hai un mazzo da 60 carte peschi 7 inizialmente se ti piacciono le tieni se non ti piacciono le ributti dentro un mazzo rimischi ne peschi altre 7 ne metti giù una e così via 6 5 ipotizziamo che 7 carte sono belle le tengo il tuo mazzo si divide in terre e spell qualsiasi cosa che non sia una terra è una magia e per giocare le magie hanno un determinato costo le terre ti servono a questo puoi mettere una terra a turno e di conseguenza diciamo hai un gioco che più va avanti più giochi cose più forti idealmente e si inizia con 20 punti a testa 20 punti vita ogni giocatore ed è come se fosse una battaglia tra due maghi quindi il primo che ha 0 punti vita dell'altro vince e tu puoi colpire anche le creature no io gioco cose ah beh dipende è molto generica mancano 8 secondi ho capito ma ho già spiegato o vai faccio o vai board la base l'ha fatta vado faccio vado board però per tutti gli altri che se non avete se non siete in grado di vincere un torneo grazie a questa spiegazione scaricatevi Magic Arena è gratis c'è il tutorial che è molto semplice no no però seriamente questa è una differenza poi andremo a parlare anche con Brian effettivamente tutti gli attacchi che tu fai sono indirizzati al mago o comunque al giocatore allora ovviamente hai spell come dicevo prima che possono targettare creature altre carte sul board non voglio entrare troppo nel ruling oggi perché altrimenti non finiamo più però dato che il tuo obiettivo ovviamente è azzerare i punti vita dell'avversario o far finire il mazzo all'avversario quindi vuol dire che si può perdere in due modi esatto o ho zero punti vita e non ho cose che mi dicono se sei a zero punti vita non muori perché esistono oppure se l'avversario deve pescare e ha finito il mazzo l'avversario perde quindi diciamo ci sono mazzi che hanno come obiettivo quello di millare si dice quindi macinare il mazzo dell'avversario quindi ti faccio macinare tre macinare quattro macinare cinque finché non hai macinato tutto il mazzo e hai perso quindi dei tuoi punti vita possono anche e tu perché dovresti attaccare le creature per impedirgli di attaccare al giorno dopo sì esatto quindi se fai una creatura che ti dà un vantaggio enorme è tutta una guerra di risorse quindi se io metto una creatura enorme sul board posso decidere di rimuoverla dal terreno di gioco ok Brian in tutto questo tu come ti come ti incastri e noi ti abbiamo invitato non perché tu fossi specializzato in Magic the Gathering ma perché tu hai giocato a una serie di giochi che insomma non sono neanche pochi però sei specializzato diciamo in altri giochi ci vuoi raccontare quali sono e magari anche dicendoci in cosa differiscono con Magic sì sì allora io principalmente per Magic for fun ne ho giocato quindi le dinamiche base le conoscevo le conosco però ho giocato prevalentemente per lo più a Yu-Gi-Oh e Dragon Ball e One Piece che sono vabbè Dragon Ball e One Piece entrambi i giochi Bandai con dinamiche molto più simili a Magic di quanto lo sia Yu-Gi-Oh perché in Yu-Gi-Oh non c'è il mana prevalentemente quindi fare delle azioni non costa non costa ok cioè non hai delle ti costa in altri modi per esempio devi scartare una carta però non hai il mana con cui fai le cose ti fai dei sacrifici detto proprio di risorse detto in poche con una parola comoda questo porta il gioco a essere iper esplosivo soprattutto adesso perché le carte hanno effetti completamente sbroccati power creep alto una carta da sola di Yu-Gi-Oh già avete detto due tre termini che io non comprendo ma dopo ve lo chiederò banalmente una carta specifica di Yu-Gi-Oh potrebbe rompere Magic stesso detto proprio cioè a livello di 50.000 50.000 eh no a parte per le stats però sì per la facilità c'è un video molto bello video molto bello che se non non riusciamo a mandare in sovrimpressione ve lo mettiamo in descrizione sono dei giocatori di Yu-Gi-Oh che retano le migliori e peggiori carte di Magic si è un video in cui effettivamente due giochi che sembrano potrebbero sembrare a un occhio in esperto simile sì a un occhio in esperto simile hanno le loro similità però quelle per lo più nel competitivo come ragioni poi ci sono questi che guessano proprio al buio e fanno boh guarda non lo so farrebbe fortissimo invece oggi tienne più belle le carte di Magic però esteticamente dici ok no dicevi l'altra volta che ad esempio nel TGC di TGG di Dragon Ball il mana c'è in realtà sì il mana c'è però non ti servono delle carte specifiche che hai dentro il mazzo che ti facciano da mana tutte le carte possono anche essere mana che poi vabbè Disney con l'Orkana ha fatto una cosa uguale però in realtà Bandai l'aveva già fatto prima ed è comodo perché non hai problemi di Magic tipo il Mana Flood che è quando se lo vuole spiegare lui peschi troppe terre ovviamente il tuo mazzo è composto da un numero di terre ideale per la strategia del tuo mazzo e pescare tutte terre è male perché non c'è niente da giocare non giochi niente e infatti il tuo team di Magic si chiama? Only Lands solo terre allora facciamo così siccome avete già detto troppi termini che io non ho capito e non mi capita spessissimo questa cosa facciamo i top 5 termini che vi sentite di dover specificare almeno nella fase iniziale di questa puntata così poi li potete dire e non vi dovrò fermare dopo ok allora board perché io non riesco a dire altro che board che è il campo da gioco il campo da gioco potremmo parlare di sideboard nel corso della puntata che cos'è? e quindi c'è negli altri giochi la sideboard? side deck o sideboard? il side deck sì no side deck sì banalmente in Magic giochi con 60 carte o più dipende però minimo sono 60 carte più hai accesso a 15 carte di side che è la sideboard poiché è una partita si fa al meglio delle tre delle tre giocate quindi G1 G2 G3 quindi vinci 2 a 1 perdi 2 a 1 vinci 2 a 0 c'è anche il pareggio ma questi cazzi per G2 G3 quindi diciamo G1 lo fai blind quindi non sai contro cosa stai giocando e il tuo avversario non sa G1 G2 G3 sono game 1 game 1 game 2 game 3 game 1 game 2 G2 G3 invece li fai sapendo già contro contro chi stai giocando e quindi di conseguenza hai queste 15 carte per poter migliorare il mazzo quindi poi mettere 15 all'interno e avere un mazzo da 75 carte è logico che aumenti a dismisura la probabilità di non pescarli che ti capitino quelle che vuoi tu esatto e quindi diciamo è meglio tirarne via e metterne e giocare sempre con un mazzo da 60 carte si è come se fosse un estensione diciamo lo vai a migliorare quindi tiri via delle carte che non sono ottimali per quel matchup matchup un altro un altro termine matchup però è un termine abbiamo detto l'anno scorso nella puntata dei picchiaduro significa il miglior approccio per quel determinato tipo di personaggio o di mazzo in questo caso esatto tappare che significa è attinggeremana gergo per il tender magic però poi viene usato anche negli altri in realtà e di base per far vedere che hai utilizzato quella carta quindi anche per attaccare tappi la creatura e in magic la metti in orizzontale esatto mentre la giri di 40 però questa cosa è abbastanza iconica perché è un po' e accade in altri giochi anche si 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 è proprio un modo per indicare che stai pagando il mana o che stai dichiarando attacco o che stai dichiarando una fase per esempio in magic quando dichiari bloccanti i difensori non devi tappare ok opposto invece in one piece si per quello ci sono delle situazioni in cui delle carte possono deviare degli attacchi non so c'è un artefatto che mi dice attivi e quindi da un momento in cui attivi yugioh è l'unico non so tra i pokemon però yugioh non esiste il concetto di tappare però c'era e no perché non c'è il mana c'era la posizione di difesa la posizione di attacco ma non è tappare per attaccare non è un movimento che faccio per andare ad attaccare in cosa consiste la posizione di difesa tra magic e che poi hanno invece in comune yugioh one piece e dragon ball allora in yugioh tu non puoi attaccare direttamente il mago se facciamo il paragone con magic era la differenza di cui parlavamo prima devi per forza attaccare prima il board in quel caso quindi le creature schierate puoi attaccarli in yugioh sia se sono in attacco che se sono in difesa però poi vai il paragone delle stats cambia cioè se sta in difesa paragoni l'attacco con la difesa di quella creatura in yugioh questo se sta in attacco l'attacco con l'attacco mentre in magic è diverso si scontrano forze e costituzione one piece e dragon ma invece giochi bandai hanno questa peculiarità che tu puoi decidere sia se attaccare il mago se attaccare il board indifferentemente dal fatto che ci siano creature o meno cioè a me non cambia nulla questa scelta poi rende ci sono delle skill nuove che per chi viene da yugioh per chi viene da magic deve un po' capire perché non è facilissimo cioè non è così intuitivo venendo dagli altri giochi capire cosa conviene sempre cioè si vede questa differenza da chi viene da yugioh da chi viene da magic e l'approccio del gioco stesso io ho giocato anche all'orcana che è una roba effettivamente all'orcana non l'ho provato però ho giocato un po' cioè ho provato il gioco all'orcana è trading card game digitale o anche fisico anche fisico anche fisico o forse soprattutto fisico credo solo fisico mi sta solo fisico credo solo fisico disney delle principesse disney esatto minchia hanno fatto tra l'altro OP le principesse le principesse c'è sta biancaneve veramente devastante ma che stai dicendo no ma sì sì e quindi c'è stanno i mazzi qui qua qua e dicevo no parlavate appunto quando sei prima scusami piccolo inciso proprio perché i trading card game stanno andando così tanto che ogni brand sta facendo il proprio oggi franchise non brand prima avete menzionato quando sei a un torneo eccetera eccetera io so da da instagram che brian frequenta insomma ha partecipato a vari tornei non solo in italia in italia sì no anche all'estero ma pure in italia in italia sì dove ad esempio com'è la scena di one piece dove gli italiani sono probabilmente cioè è proprio una delle nazioni se non la più attiva in one piece sì anche a livello proprio competitivo tra i più forti al mondo soprattutto e l'abruzzo in particolare alla regione l'abruzzo in particolare ci stanno ci sono giocatori forti anche in one piece 5-6 persone che hanno vinto premi importanti ci sono mi è compreso sì ti è compreso ma in italia mi è compreso un torneo in particolare no più in abruzzo poi a livello italiano c'è gente più forte che ha vinto di più però diciamo che in abruzzo dai ok e com'è cioè com'è l'esperienza di andare ad esempio in Europa a fare un torneo di one piece ma l'esperienza del torneo l'esperienza del torneo è simile un po' in tutti i giochi di carte perché l'approccio la preparazione è quella di provare i mazzi con persone amici o chiunque tu voglia da solo noioso però lo puoi fare l'esperienza è simile vai lì decidi prima è importante anche soprattutto il prima non solo il mentre il prima devi capire che mazzo portare capire il meta decidere se fare la metacall che metacall inteso portare un mazzo prevedendo che porteranno un altro mazzo un tipo di mazzo in particolare cioè che la maggioranza porterà quel tipo di mazzo in particolare spieghiamo però scusa Brian lo chiedo a tutti e due il meta tra l'altro ce l'avevo tra le parole dai non te l'ho chiesta Giovanni il metagame che cos'è allora esattamente come quello che abbiamo visto sempre anche nella puntata dei picchiaduro diciamo i trading card game di base evolvono perché comunque le aziende devono fatturare quindi di conseguenza mettono sul mercato sempre più figurine da comprare però se noi prendiamo un piccolo lasso di tempo quindi il momento domani dobbiamo andare a fare un torneo il gruppo di carte a cui possiamo accedere per creare dei mazzi è fermo quindi di conseguenza ci sono dei mazzi più forti e meno forti i mazzi secondo le varie strategie che banalmente sono aggro quindi un mazzo che cerca di aggredirti nei primi turni e quindi probabilmente a me non è magic ha delle spell molto poco costose quindi cerca di fare tutto il cioè ti aggredisco così tanto che tu a una certa non puoi far niente e muori controllo come dicevo prima che invece è il contrario quindi cerco di arginare tutte le tue minacce i primi turni e poi ti chiudo con di solito qualcosa di così sbroccato che chiediamo un po' in fretta carte ag impact esatto carte ad alto impatto ok cioè magari c'è un mazzo controllo nel senso che ha come prima primo scopo quello di controllare l'avversario e poi c'hai una carta che gioca da sola poi tu praticamente hai finito le carte le risorse peschi una carta a turno invece io ho costantemente sette carte in mano e te scoppio dopo un po' esatto oppure c'è i mazzi combo che vabbè quindi abusano sono i mazzi detti unfair cioè praticamente abusano di una meccanica e fanno infiniti danni di solito e quindi cerco di è un po' quasi un solitario spesso alcuni combo quindi cerco di crearmi la combo in mano e poi cerco di farla entrare dal momento in cui entra e sto scombando cioè il tuo obiettivo è cercare di vedere quella x e y carta certo pescando tutorando quindi aggiungendo dal deck stesso dal mazzo di carte delle carte specifiche e poi ti facciano fare quella più forte fare una roba così forte che è un po' l'exodia no? sì un po' l'exodia solo che poi l'exodia pure anche l'exodia stessa sono certe diventato counterabile cioè prevedì cioè fermabile prima del del disastro sì ovviamente le combo sono quelle che devi essere bravissimo a si dice girare attorno alle carte dell'avversario cioè cerco di prevedere quello che potreste avere in mano e scombo nel momento in cui mi sento abbastanza safe per farlo quindi ok e poi ci sono i mazzi midrange per chiudere diciamo poi non mi ricordo ci sono ultimi mazzi midrange sono un miso tra aggro e controllo cioè nel senso che nel midgame riescono comunque possono fare un po' entrambe le cose però non eccellono comunque per essere precisi mi sono ricordato che meta tu sai che cosa significa esattamente meta oltre in greco most effective tactic available ah ok bravo quindi le migliori tattiche disponibili esattamente in quel determinato momento quindi non so aggro ci sono due tre mazzi contro ci sono due tre mazzi e tu sai che per come è strutturato il gioco quei due tre mazzi sono quelli validi i veri pro player giocano quei mazzi lì quindi tu devi essere bravo a non solo giocare tutti e questa cosa ti aiuta perché dal momento in cui poi dopo stai giocando contro un avversario che sta giocando un mazzo che tu stesso hai giocato sai benissimo le difficoltà sai benissimo i pro di quel mazzo lì sai quindi com'è cercare anche di rompergli le palle dato che è anche un gioco iper mentale un gioco di carte cioè vediamo diciamo mai la mentalità del classico poker player che sta tutto ingrugnato con gli occhiali uguale solo che quello veste il cappello da texano e quindi è figo però anche degli scacchi perché di strategia quindi è come se io ad apertura x rispondo con difesa y e prevedo le mosse e quindi se vai a un torno appunto come diceva brian devi prepararti al meta devi studiare attuale perché cambia cambia ogni tre mesi dipende ogni tre mesi ti spiego ogni uscita di espansione ogni tre mesi escono carte nuove in media in tutti i giochi di carte ed è così da quanti anni no magic da meno anni rispetto in passato era più lento però ripeto io ho ricominciato seriamente due tre anni fa oppure un 5-6 quindi escono delle nuove espansioni e cambia il meta cambia il gioco stesso delle volte nel senso a livello escono meccaniche nuove valori di carte che cambiano proprio la matematica l'economia del gioco quindi ti devi un po' adattare ci sono carte due anni fa che adesso magari non hanno più senso magari quando succede era una bomba si dice subottimali cioè non sono più ottimali se vuoi fare quella roba lì c'è una carta che la fa meglio perché è questo perché Brian diceva prima una parola brutta che era power creep che era esattamente questo volevo chiederti chiedervi la dinamica della reserved list e quella del power creep la reserved list credo che sia solo di magic dico dovrebbe perché poi ovviamente potrebbe cambiare dalla giornata in qualsiasi altra cosa allora era la reserved list è un accordo che wizard of the coast ha fatto con i giocatori di magic con la community di magic negli anni ormai gli anni 90 prima hai detto black lotus alpha che significa che è la primissima edizione che costerà tipo mi sembra allora firmato da christopher rush che è un disegnatore morto rip rispetto 800.000 dollari credo che l'abbia pagato post malone e quindi non so quando costava 100 euro i black lotus comunque era un gioco che nessuno avrebbe mai è come le krypton cioè nessuno avrebbe immaginato quando bitcoin stava a 10 euro che sarebbe arrivato a 70 passo da un momento in cui stiamo distrando e invece il wizard of the coast poi ristampava le carte cioè black lotus c'è in 4-5 edizioni adesso non mi ricordo c'è l'alpha la beta l'unlimited e credo forse basta quindi c'è in tradizione ristampando le carte quelle già stampate perdevano valore sì perché ovviamente immetti nel mercato più numeri e quindi per appunto la scarsità dei beni ovviamente invece l'abbondanza di beni faceva diminuire il valore e quindi la community si era un po' inalberata e wizard of the coast ha detto ok raga facciamo un accordo ovviamente un accordo che wizard potrebbe rompere dall'oggi al domani però per ora un vero accordo o un accordo diciamo un accordo che come azienda si impegna a mantenere la propria community che ovviamente foraggia di gran denaro tutti gli anni l'azienda e quindi dice guarda facciamo che queste carte quindi ci sono un sacco di carte all'interno di questa lista non verranno mai ristampate nel corso della storia poi questa lista è stata un po' editata però non ha mai creato grossi problemi cioè nella lista trovate anche carte che non valgono niente c'è gente che proprio compra sacchi di carte che valgono 10 euro nella reserve di list sperando sperano che un giorno ah certo ok Brian invece il power creep si il power creep è quello che diceva prima lui vabbè l'azienda deve fatturare quindi io devo essere invitato a comprare ogni tre mesi in questo caso le carte nuove più forti sia in ottica soprattutto in ottica competitiva forse perché il collezionismo non è non è cioè non dovrebbe impattare il power creep lì però il power creep perché nel gioco stesso la carta è più potente è meno subottimale hai nuove meccaniche nuove strategie a cui ti devi per forza adattare e di conseguenza devi spendere i soldi per avere quelle carte nuove e poter continuare a competere cioè banalmente quindi è come quando Tekken esce l'espansione nuova ti mettono il PG sdr e certo e quello per sei mesi rimane tipo top tier e poi lo nerfano perché la community dice poi ti dirò ci sono dei periodi in cui non è stato gestito dai giochi che ho giocato io benissima questa curva possiamo dire quindi alcuni mazzi in realtà sono stati forti anche per 3-4 espansioni lo stesso One Piece ha avuto un mazzo barbabianca proprio il mazzo più importante il mazzo più importante del gioco è per top fatte insomma per rappresentanza dei tornei che è stato il best deck proprio il miglior mazzo di tutti per quasi un anno un anno no però 9-10 mesi e secondo te ha so era proprio sopra c'era ed ha sofferto della meccanica power creep secondo te no lui non l'ha sofferto addirittura poi l'hanno dovuto bannare nerfare l'hanno dovuto proprio indebolire ci sono state poi delle carte specifiche che lo hanno tolto dalla competizione perché metti caso proprio un mazzo che pesca tante carte e che magari arriva ad averne 10 in mano e tu ne hai solo 5 se esce una carta che ti dice da 10 carte torna a 3 quel mazzo che era forte proprio per cavalli di carta in mano già muore diciamo proprio per questa cosa qui dipende dalle risorse che dicevamo prima quindi se esce una carta che impatta in maniera particolare le risorse stesse di quel mazzo perché variano poi pure le risorse ci sono dei mazzi che magari giocano senza carta in mano ma giocano col cimitero si chiama cimitero pure in che cos'è il cimitero? cimitero è la o in one piece trash zone cestino dove vanno le carte una volta che le hai effettivamente utilizzate una volta che le hai tirate dalla tua mano castate che le hai usate alcune carte hanno anche degli effetti lì che quindi sono carte che non solo le fanno qualcosa dalla mano mentre sono nel cimitero ma anche mentre sono al cimitero quindi se io ho 5 carte in mano posso anche poi andare a guardare il cimitero e vedere se c'è perché la mia opzione diventa doppia ok diciamo sì magic è uguale cioè sono tanti mazzi che sfruttano un cimitero per questo per avere altre risorse perché alla fine in qualsiasi gioco di carte è proprio una guerra di risorse quindi ovviamente pescare tanto è sbroccato pagare le cose meno rispetto a quello che dovrebbe costare è sbroccato sì 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 quindi power creep non solo è l'entrata di una carta di per sé fortissima ma è anche il nel senso se io ho una carta che dice distruggi target creature che costa due ma poi dopo sei mesi ne stampo una che fa la stessa cosa che costa uno e ovviamente quella che costa due diventa obsoleta è certo anche se magari prima era sbroccata esatto il formato che cos'è io te e altri giocatori diciamo giochiamo a magic ok però escludiamo cioè prendiamo di fronte a questo enorme enorme quantità di carte pubblicate e messe in commercio noi scegliamo di utilizzarne per questa determinata partita solo un gruppo e questi gridari di scelta fanno il formato esatto perché diciamo la cosa bella di magic è che è come se fosse una piattaforma poi decido io quale gioco tant'è che come dicevo prima prendevo un po' per il culo i giocatori di commander cambi formato cambi quasi gioco proprio perché hai ovviamente il meta è diverso per forza e soprattutto è proprio il modo di giocare commander nello specifico è una roba assurda perché non si gioca uno contro uno ma si gioca uno contro tre anche due contro due diciamo si gioca in quattro tutti contro tutti più un gioco da tavolo è un gioco sì è un birrette giochiamo a magic cioè for fun è bello dai però giochi con un mazzo di cento carte tutte diverse tutte uno per perché invece negli altri formati puoi avere massimo il quattro per quattro per vuol dire quattro carte uguali ovviamente per massimizzare la possibilità di pescare quindi al massimo posso avere quattro carte uguali a meno che non ci siano delle carte che dicono puoi averne più di quattro c'è un'altra liga avendo le cento tutte diverse è un quadro più randomico è molto randomico e se gioca tra amici esatto adesso l'hanno ovviamente cercato anche di fare quello competitivo tipo io ho fatto questo torneo commander senza mai aver giocato commander sì e perché la situazione era assurda è stato questo evento organizzato da slam jam a spazio maiocchi e anche ah sì è vero è anche e quindi ho visto qualche foto è esistato anche con braindead che è questo brand di skate e che fa collezioni con magic collaborazioni con magic hanno fatto due eventi una a bologna organizzato da ombre lunghe e uno organizzato da slam jam quindi ho detto dai non ci posso non andare però il formato purtroppo era commander perché gli americani stanno in fissa con commander post malone gioca commander diciamo che voglio aggiungere che per il for fun secondo me come entry in realtà il commander per non essere mai giocato nessun gioco di carte non è male perché se lo vedi come se appunto fosse un gioco da tavolo invece che il monopoli il club e il risico e si mettono là in 4 in 6 quello che è perché commander è anche più di 4 no? io mi sembra non mi ricordo però vabbè però dato che è for fun uno può anche decidere poniamo pure se fosse in 4 e basta però siete in 4 prendete il consiglio che posso dare è di non modificare poi i mazzi cioè li compri così come sono perché poi tu li puoi chiaramente tu hai dei mazzi che compri così già montati e poi te li puoi modificare oppure parti da capo poi esistono dei mazzi in tutti i giochi di carte che li compri già costruiti che hanno un livello molto simile tra loro come for fun ci sta per una persona che non ha mai mai toccato le carte non è malvagio secondo me l'idea di io e altri tre amici ci mettiamo sul tavolo con 4 mazzi commander birretta come appunto ha detto lui quello che volete è carino visto così secondo me è interessante poi è molto anche più politico ci sono alleanze ci sono alleanze ci sono alleanze un gioco un po' per le feste se tu hai una famiglia con tuo padre e dici papà giochiamo a commander però quella non è la vera esperienza non è la vera mi schiereavo esatto esatto pare che io ho vissuto un trauma perché partecipando a questo evento in cui avevamo tipo 45 minuti per fare una partita commander cioè impossibile ho finito tutte patte tranne l'ultima che uno ha scombato ma poi magari era veramente la mentalità di wizard era quella fare un formato per queste cose ma anche perché tipo qui a percularlo ma è il formato più giocato al mondo proprio per questo aspetto ok 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 il commander e il modern che è quello che ho giocato fino a poco tempo fa prima di approcciare il pauper che è un formato che dà dal 2011 in poi a tutte le carte e ovviamente ci sono anche e prima del 2011? no no quindi perché quando ci ha cambiato il layout quindi se voi guardate una carta uscita nel 93 è una carta uscita nel 2011 è proprio si chiama layout moderno e da quel momento in poi hanno creato questo formato scusami però è la stessa carta? no cioè non per forza ci sono carte mai state ristampate ok però quelle ristampate le loro proprietà entrano esatto entrano a far parte del formato ma tu puoi giocare solo quelle ristampate però no 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 te puoi portare quelle del 2006 è come nel pauper esatto è come nel pauper se viene downgradato io posso giocare anche la rara ok chiaro è la stessa carta altri esempi di formato nominiamo i più i più famosi allora questo qui prima sentivo brian ha nominato il pauper il pauper è quello che sto giocando adesso perché mi sono annoiato della tossicità dei modern player tutto rispetto viva il pauper il pauper è un formato di magic non so se si è anche da altre parti potrebbero farlo sì potrebbero potrebbero perché finalmente la regola è solo carte comuni sì qui diciamo in barba collezionismo no no non rare uncommon mitiche le carte rare uncommon e mitiche sono come si dice illegali in pauper sono illegali non sono messi al formato se e succede che dato per il power creep determinate carte da rare vengono si chiama downgradate a comuni entrano nel pauper ah figo poiché la tendenza è quella di creare sempre delle carte più sbroccate di conseguenza quelle che magari erano rare le stampano comuni ok perché non ha più senso farle rare quando è dato che comunque ristampano costantemente carte sì quindi letteralmente uguale identiche semplicemente ristampate perché per dare in modo per dare l'accesso a tutti di poterle giocare è un formato ufficiale pauper pauper non è sanzionato ok quindi che vuol dire questa cosa non puoi i formati sanzionati sono dei formati che la dci però adesso si chiama vpn quindi wizard play network qualcosa non lo so quale sia l'acronimo tra l'altro ho perso una finale del vpn vpnq quindi mi stavo qualificando per andare a giocare ad atene sono dei formati che se se vinci un determinato competizione di quel formato lì ufficiale quindi diciamo ti dà accesso a poi qualificarti a dei tornei molto grossi e ufficiali quindi pro tour eccetera il pauper invece non è diciamo è creato dalla community però ha una struttura assurda e in brasile e in italia diciamo è super forte quindi ci sono questi tornei grossissimi si chiamano pauper geddon in italia fanno a milano pisa e roma e effettivamente fanno ormai sono arrivati a fare sold out del torneo da 600 persone circa in 10 minuti neanche figo senti no volevo chiedere a Brian se questa cosa dei formati è solo per magic esiste anche negli altri giochi in Yu-Gi-Oh esistono altri due formati ma con la stessa dinamica mi sembra del pauper per magic cioè che sono nati dalla community e non effetti ufficiali non sono sicuro al 100% però per quello che era Yu-Gi-Oh due o tre anni fa era così cioè esistevano Edison, God che si basavano sul giocare carte di una certa annata cioè di un certo periodo del gioco in cui preferivano ma non mi ricordo le date sincero però diciamo che da un'annata in poi quelle carte che sono uscite da quell'anno in poi non le potevi giocare più allora fino adesso abbiamo parlato di trading card games fisiche reali che tipo poi tocca con le mani che per noi gamer già sta cosa tipo la realtà è una cosa che non ci va tanto a genio però appunto c'è una versione anche digitale di fai la faccia alla persona che fa genio perfetto no 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 giochi di carte cartaci no cartaci cartaci però ci sono delle versioni online ad esempio di magic online o digitali certo quello che raccontavo prima il consiglio di scaricarsi magic arena che per i mac user è su epic games oppure mtgo che è magic online che è free col cazzo col cazzo che è esattamente la vita reale cioè le carte te le devi comprare ah si e quindi sono nati tutti dei dei servizi di noleggio carte quindi tu paghi 20 euro al mese hai un tot di budget e te li puoi noleggiare wow digitali digitali ovviamente ovviamente però questo perdonami per quale motivo la gente gioca ancora con le carte fisiche se c'è questa cosa che è uguale è tutto un'altra roba cioè perché abbiamo parlato ma solo per il flavor o perché è tutta un'altra roba non per il flavor le carte fisiche le rivendi esatto anche quelle online tra l'altro io tipo Pauper l'ho comprato ho tipo il doppione fisico e online l'ho comprato anche online posso rivenderlo poi però il ragazzo di reddit raccontava bene questo ragazzo di reddit adesso mandiamo il fra cosa che dice dice fondamentalmente dice che è estremamente più salti quando gioca a magic the gathering online cioè rosica di più esatto stavo dicendo adesso spieghi i salti rosica di più forse è che sta davanti al computer e quindi è la colpa del computer non è il gioco però il tipo qui dice che fondamentalmente si incazza molto molto di più quando gioca online ha detto che io ho giocato abbastanza online proprio perché è il miglior modo MTGO è il miglior modo di allenarsi a giocare a un determinato tipo di mazzo perché? perché va bene anzitutto spesso impari una cosa proprio o sbagliandola o perché si può fare così e quindi minchia l'ho fatto su MTGO vuol dire che è legit vuol dire che è quello perché il gioco è proprio costruito per fare l'algoritmo lo permette esatto quindi dici ok lo faccio anche in cartaceo devi alzare le cazzo di mani come direbbe il nostro ospite coperta coperta però sbagli veramente tantissimo perché hai un tempo limitato quindi ma nelle partite real c'è il tempo limitato sì però hai 50 minuti più turni addizionali questo cosa vuol dire come dicevo in precedenza c'è anche il pareggio in cartaceo avete i player hanno 50 minuti di tempo per fare il best of three quindi fare game one game two e se necessario game three se ciò non accade se quindi siamo 1-1-0-0 quindi c'è una situazione di pareggio al termine dei 50 minuti si fanno 5 turni addizionali cosa vuol dire che abbiamo 1-2-3-4-5 turni ok quindi uno mio uno tuo per chiudere la partita e abbiamo infinito tempo io posso cioè ovviamente nel senso umano però non è che poi si conta il minuto di quel turno però ho questi 5 turni per vincere se ciò non accade allora si fa pareggio poiché i tornei di magic si fanno e anche quelli di Yugi che parlavamo cioè di Yugi di altri giochi si fanno come i tornei di scacchi con la Svizzera Svizzera è un sistema che adesso non stiamo a spiegare però è un sistema per fare pairing è un sistema a punti molto simile al calcio in realtà allora si vinci hai 3 punti pareggi hai 1 punto perdi hai 0 punti e poi praticamente il sistema secondo con dei calcoli astrali ti payra con dei giocatori quindi tu vinci andrai contro un giocatore che ha vinto e quindi di conseguenza se vuoi arrivare se hai partito e vinte di fila scusami stai contro un altro che ha vinto se hai partito ok letteralmente esatto e questo è il cartaceo online MTGO invece hai 25 minuti tu 25 minuti il tuo avversario ed è come gli scacchi praticamente quindi il tuo turno ti va a scadere turni quindi questo cosa vuol dire ci sono anche tutta una serie di mazzi che non puoi giocare MTGO però il fratello su Reddit che diceva che mi rodeva di più il culo su MTGO lo capisco benissimo perché appunto perché in questo tempo io tantissime volte ho sbagliato cercando di fare il turno velocissimo di passare così e praticamente hai uno shortcut che è 1 e 2 diciamo 1 vuol dire che andiamo alla fase successiva del turno 2 praticamente andiamo direttamente nella fase finale del turno quindi quinto tu prendi tutto e non sai quante volte che devo fare delle cose io per fare in fretta oppure siccome il Magic a differenza adesso non so negli altri giochi però puoi giocare alle velocità istantanee sì ok ci sono anche sì 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 anche Yugi per forza perché mi diceva che si countera però vabbè quindi devi comunque non puoi passare il tuo turno e fottetene nel turno dell'avversario perché puoi giocare determinate magie anche nel turno dell'avversario in risposta quindi avversario non in tutti i giochi di carte questo è tra me nevole cercare di dire questa è la meccanica del countering anche cioè io posso neutralizzare una magia dal momento in cui posso giocarla quando tu la stai castando non in tutti i giochi di carte hai però c'è nella maggior parte dei giochi di carte tu nel turno dell'avversario hai comunque delle opzioni e delle carte che si possono usare anche in quel momento però ci sono dei giochi dove non proprio il turno dell'avversario è il turno dell'avversario che non puoi fanno niente tipo Airstone Airstone non lo so non ci ho giurato però è molto importante pure questa cosa perché tu nel tuo turno non devi pensare solo a quello che vuoi giocare tu però ristrattendo pure a quello che potrebbe avere lui nel tuo stesso turno anche non solo nel suo turno e quindi diciamo che sì lui diceva no no c'è anche un'altra problematica che è veramente interessante perché si rifà anche a un aspetto proprio digitale il fatto il problema dello shuffling nel senso cerco di spiegarlo io poi come al solito se dico una stupidaggine correggetemi quando io mescolo un mazzo e quindi randomizzo le carte noi sappiamo che in fisica il random non esiste quindi in realtà non è veramente random solo che io io non lo so perché lo sto le sto sciaffolando è ovvio che il modo di sciaffolarlo poi determina in un modo o nell'altro come vengono disposte solo che tu non sapendolo è ok il problema è che in mtgo mi sembra ci sono stati dei report di di utenti che hanno detto guarda non è possibile il sistema di shuffling è rotto è broken perché a me mi capita in una mano solo terre che sta cosa non è possibile eccetera eccetera appellandosi a un'informazione che però è vera e cioè che proprio come non esiste nella realtà neanche in informatica esiste la randomness forse ne avevamo già parlato in una puntata speedrun esattamente giustamente il computer non è in grado di riprodurre la randomicità e quindi ha tantissimi modi per generare scenari differenti in tutti i videogame e quindi anche in mtgo però questo anche solo il fatto del dubbio ha creato comunque un problema nei giocatori di mtgo sì nello specifico mtgo come mtga quindi magic online come magic arena c'è proprio il bias del giocatore che dici eh vedi gioco di merda cioè non è possibile vedi questa cosa in cantaccio non è mai successo perché la gente in digitale rosicade più perché dai colpa al computer cioè invece di dire la teoria di certe carte che avevi per cento di mangiore allora in realtà poi abbiamo trovato perché c'era questa leggenda metropolitana che è magic arena ok diciamo è la versione gen z di magic online quindi hai un pool di carte molto minore magic online è letteralmente il cartaceo quindi hai accesso a tutte le carte magic arena che è gratis eccetera quindi ha un sistema anche di diciamo di sostentamento diverso banalmente freemium quindi compri le gem eccetera come tanti giochi digitali gratis e ci giocano molti più persone magari è più casual player ecco quindi non gente che invece deve grindare per andare ai tornei e quindi quello diciamo è più la fauna di mtgo magic arena essendo gratis dici vabbè uno scarico giochicchi eccetera e effettivamente alcuni si sono lamentati da che è arrivato il designer di magic arena e ha risposto raga io questo funziona questo funziona ha letteralmente scritto che tipo di algoritmo usa per lo shuffling e ha detto raga scusate io questo l'algoritmo questo e quindi diciamo non è un segreto questo è quanto si poi spiega cose che non capisco però ho apprezzato diciamo la sincerità sì sì estremo i numeri da un mercine twister mt19 9337 che è vabbè ovviamente super complicato però lui ha dovuto spiegare alla community in che modo questo shuffling avveniva ma secondo me è una cosa diciamo a tratti devastanti perché a me piaceva molto giocare i combo diciamo che nonostante tutto questo lo sforzo diciamo di un'azienda che diciamo che ce la mette tutta per non fare il gioco digitale che non crash vabbè lasciamo perdere però comunque diciamo ci sono tante soluzioni per per giocare magic digitale però nonostante questo per come è fatto il gioco è impossibile giocare dei combo diciamo o altre cose diciamo soprattutto i combo che devi fare un sacco di click proprio perché hai un tempo limitato in paper io ti dico faccio questo 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 lo faccio infinito certo quindi che tu sia 200 miliardi di vita io comunque ti faccio 200 miliardi di vita un danno ok a posto infinito più uno digitale no digitale ti stai lì a click e perdi tempo si e quindi hai quei 25 minuti su mtg oper direi quei 25 minuti per farlo e non ce la fai e magicario non è ancora peggio non hai 25 minuti hai tipo una cosa che un tempo che è una certa comincia ad andare e tu dici ma zi ma sto scombando non vedi che sto giocando lasciami il tempo ecco andiamo andiamo a parlare di giochi di carte esclusivamente digitali ad esempio menzioniamone alcuni perché io veramente ne so poco Hearthstone diciamo è quel primo game Blizzard sì Hearthstone vabbè Legends of Runeterra è Lore gli stessi creatori di LoL non lo sapevo di League of Legends giusto sì sì ok è un giocone che voi sapete un saluto che voi un saluto a Blizzard no che voi sappiate le differenze principali con i giochi di carte con i collezionabili quello che ti posso dire è che cioè quelli per te ne sono online hanno delle meccaniche non riproducibili nel cartaceo quindi già solo sta cosa tipo eh tipo beh allora anche in Magic Arena hanno aggiunto questo formato Alchemy che ha all'interno carte soltanto digitali e hanno delle robe assurde tipo adesso non mi ricordo il termine tecnico però per dire peschi una carta creatura dal mazzo a caso tu ovviamente nel fisico non puoi farlo perché hai tutte le carte a minghie io posso pescare una carta a caso dal mio mazzo ma che ne so io se sei creatura non è che mi metto a dividere tutte le carte creatura fuori dal mazzo banalmente una carta che quando la giochi su quello solo digitale ti dice crea nella tua mano tre carte che poi fanno queste cose ognuna di queste esistono e senza conoscere il mazzo tu non lo potresti mai fa no ma proprio a livello cioè io nel fisico vero non posso giocare una carta che me ne crea tre in mano ah certo chiaro però potrebbero essere dei token esterno eh però le devi avere in mano allo stesso tempo e quindi poi nell'ottica di ti devo scartare una carta casuale dalla mano io ho delle carte che in realtà nella vita vera non potrebbero esistere ok per dire un esempio quindi già matematicamente poi sì ma questo è un esempio che ti ho fatto ci sono esempi anche più eclatanti ma non mi rivengono no ad esempio io ho trovato ehm per quanto riguarda esatto in Hearthstone per quanto riguarda eh il gioco in sé cioè quindi proprio il game design del gioco di carte in questo caso in Hearthstone ma ovviamente c'è un game design altrettanto complesso in tutti i giochi di carte questo game design però in alcuni casi si può rompere cioè possono uscire fuori delle carte sì 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 che effettivamente spaccano il gioco e uno questa cosa ha cominciato a verificarsi anche nei videogame sempre di più con l'arrivo degli updates delle espansioni dei DLC eccetera eccetera perché tu una volta che tu ovviamente prepari un gioco disegni un gioco che funziona poi tutti gli elementi futuri che tu andrai ad aggiungere ma questo vale per qualunque gioco non solo delle carte rischiano a meno che non sono super super ben bilanciati rischiano di compromettere quello che tu hai fatto prima succede è successo in Magic o Yu-Gi-Oh! o One Piece e come funziona il nerfing in questi casi cioè tu c'hai delle carte fisiche nerf al mazzo banno la carta ma nerf al mazzo diversi tipi di nerf in base al gioco e come nerfi un gioco di carte fisiche il Magic non è possibile il Magic non è stato tanto fatto una volta l'hanno fatto con la meccanica Companion quindi c'era questa meccanica nuova che praticamente è fortissimo cioè ci sono tante cose che sembrano sciocchezze in un gioco di carte ma sono fortissime tipo giocare con una carta in più esterna al gioco ed era questo il fatto del Companion cioè del fatto che non so che cazzo fare ho comunque questa carta che posso giocare e ce l'ho dall'inizio del gioco sì quindi c'è stata questa meccanica del Companion introdotta in Magic che era una carta che diceva puoi usare questa carta come Companion quindi come compagno e poi ti dava delle regole di deck building del tuo mazzo ad esempio l'Urrus che è stato bannato è una carta che diceva aveva delle abilità forti e ti dava come limitazione avere il mazzo che poteva contenere spell soltanto a 1-2 mana quindi 0-1-2 mana ok mi ricordo se 3 adesso non vorrei dire una sciocchezza però ho ricominciato proprio quando è stato bannato l'Urrus ecco ok però è fortissima perché costava 3 io a 3 mana lo casto ok hanno rifatto la meccanica quindi qualsiasi Companion tu avessi prima di pagare 3 anche se un Companion costa 5 per dire però paghi 3 e metto in mano il Companion quindi aggiungo questa carta non diretta esatto quindi hanno diciamo rallentato l'ingresso del Companion per rilacciarmi invece a come hanno risolto in One Piece non l'hanno risolto semplicemente perché l'espansione dopo questa carta non era più così impattante ok e quindi con le carte nuove era diventata una carta mid letteralmente da essere OP cioè ha cambiato il meta esatto ha cambiato il meta e quindi ok non l'hanno dovuta nerfare o altro mentre poi quello invece che è successo simile al Companion di Magic ce lo fanno in Yu-Gi-Oh specialmente che ristampano delle carte stessa proprio carte identica però cambiano magari qualcosa del testo cioè proprio nerfano nel vero senso della parola quindi cambiano un po' l'effetto quindi ristampano la carta ristampano la carta e se te c'hai l'edizione vecchia della carta devi conoscere l'effetto nuovo però in Yu-Gi-Oh hanno toccato solo gli effetti mai le statistiche ok cioè perché le creature possono essere statistiche però quelle non sono mai state mentre nei giochi solo digitali cambiano anche le statistiche nerfano anche in quel modo soprattutto tipo Legend of the Terra nei giochi digitali si possono rewardare cambiano anche le stats si effetto stats costo anche il costo in quelli digitale possono toccare digitale possono fare come vogliono però ecco la cosa che possono fare per bilanciare il gioco è mettere diciamo stampare delle carte che vanno a rispondere a questa determinata problematica ok c'è un video molto bello che in realtà parla di Hearthstone però secondo me spiega molto bene cosa succede nel caso appunto di questo di questa carta di Hearthstone che è lo Shutter Walk sì Shutter Walk appunto consentiva una specie di spirale infinita di effetti che risuonavano su loro stessi e aveva dava accesso a delle combo infinite e il problema principale è stato uno il tempo trascorso che i giocatori che stavano che sapevano che andavano a perdere perché poi quando entrava quella combo cioè tu sapevi che avevi perso però comunque non potevi quittare la partita e ti dovevi vedere tipo otto minuti di animazioni mezzo infinite fino a che comunque poi perdevi volevi mezzo ammazzarti la cosa alienante del video che infatti vuoi vedere che c'era questo loop costante con cui l'hanno scusami con cui l'hanno risolto hanno raddoppiato lo speed dell'animazione di Shutter Rock questa è una delle patch dicevi scusami infatti dicevo che è alienante questo loop di animazione suono di questo qua che faceva costante per dei minuti poi l'effetto della carta è stato ridotto a 20 volte quindi Battlecry lo può usare solo 20 volte che comunque era considerevole e l'animazione del Battlecry è stata raddoppiata quindi fa ridere che il modo in cui loro l'hanno patchata l'hanno solo resa più veloce e non infinita quindi comunque the base è rimasta lì però mi diverte sapere che l'effetto negativo di questa carta che rompeva il gioco era strettamente legato all'online perché tutto sta così ma esattamente quello che spiegavo prima riguardo al non poter giocare su MTGO dei loop quindi i combo si basano praticamente su dei loop non tutti ma principalmente e che devi fare tutti a mano invece Erson evidentemente era automatizzato perché il tizio si lamentava diceva io non mi diverto a giocarlo o a giocarci contro perché non è un gioco cioè io ho fatto sta roba guardo vincermi però che lo star è così avviene anche offline quando lui pesca di vino e tu peschi carte di merda si può dire potevo dire questa parola no non so che ne abbiamo già detto tutte allora ok e questo la cosa brutta è che poi la gente quittava il gioco ecco raccontava anche la gente ha smesso di giocare a Erston perché c'era questo meta finché non hanno nerfato la cosa e quindi poi ok abbiamo sbannato Erston non possiamo tornare a giocarlo e adesso verso la finalmente verso la fine di questa puntata cominciamo a parlare dei videogame oh videogame veri no quelli di successo siamo d'accordo siamo d'accordo che un videogame che puoi giocare a cesso no non è un è un passatempo infatti non è vero non sono veramente convinto di questa cosa è un videogame perché in alcuni casi tipo fate le run molto veloci alcuni giochi molto fichi anche sul cesso beh comunque se caghi per mezz'ora puoi giocare a Vampire Survival avrai un prolasso anale però una cagata io dico costa prende dagli 8 ai 10 minuti una cagata fai le fesci in maniera veloce e ti si sono portati a game giochi no però però a parte tutto l'impatto dei trading card games è stato così grosso così influente anche sulla scena videoludica che tantissimi giochi non hanno fatto dei trading card games digitali ma si sono ispirati alle meccaniche dei trading card games per fare altri giochi e sono dei giochi a cui io effettivamente non avendo giocato a Magic io ne ho giocati parecchi non so se voi ne avete giocato qualcuno ma gli esempi più eclatanti di questa di questa tipologia di giochi ad esempio Slate Aspire di base è un roguelite fatto gestito come un GDR quindi tu hai un personaggio che a tutti gli effetti è un mazzo ok il tuo personaggio è un mazzo e combatti hai una mappa hai vari stage e combatti contro contro alcuni nemici che sono anche a loro volta un mazzo però hanno una differenza con il gioco ad esempio con Magic tu stai combattendo sempre per fare in modo che questi giochi funzionino bene hanno diciamo eliminato il tentativo di far sembrare l'opponent umano sensiente per cui questi sono creature che giocano tendenzialmente sempre le stesse azioni ma questa cosa è comune adesso ci arriviamo però di per sé Slate Spire io veramente lo consiglio tantissimo è un gioco con cui me ci sono chiuso in una maniera veramente esagerata anche perché alla fine di Slate Spire c'è un boss segreto che è the heart of the spire il cuore della spirale che è sparerato e vabbè è accaduto non mi frega niente non giocheremo più io e Giovanni no tanto è uguale giocateci uguale che ad esempio aveva questa questa abilità che a ogni carta giocata tu perdevi un punto vita e quindi dovevi bilanciare continuamente poi in Slate Spire tu hai la shield hai la difesa puoi giocare carte che ti danno barriera ma di base rimane un deck builder quindi c'è per far sto cuore io mi ricordo ci ho messo una quantità di tempo senza senso più vai avanti per quale motivo roguelite perché più vai avanti più sblocchi carte disponibili per il tuo mazzo non le hai dall'inizio tu dall'inizio hai due abilità quattro attacchi e quattro difese per dire ok più vai avanti più lo buildi ad esempio ci sta il guerriero la classe base che ha una build particolare è lui che distrugge le carte ogni volta che distrugge le carte c'è dei bonus senza senso poi c'è silent che sarebbe il cacciatore che c'è la build veleno che quando tu dai veleno è uno status che puoi applicare ai nemici come se vuoi usare le tattiche del mazzo esattamente è esattamente così però la resa è quella di un gdr roguelite di base infatti le carte sono tipo attacco cioè proprio attacco con spada o qualcosa del genere sì sì quelle base perché poi arriva sidestep che è schivi il prossimo attacco in più c'hai più due di barriera capito oppure tutte tutte le barriere che avrei da adesso in poi sono raddoppiate quick step capito che sono tutte le e poi stanno aggiungendo tra l'altro classi è uscita un'espansione fan made si chiama downfall molto figa di si vede spari io ho visto un po' di video ancora non ci ho giocato però è veramente un gioco incredibile che io consiglio a tutti è fighissimo fare anche le espansioni c'è pc guarda penso per tutto tutto quanto io sono un switch player cilato sul divano finché c'è il portatio no no è veramente figo però ho giocato è finito prego prego come no ho giocato inscription oh infatti tu l'hai giocato inscription lo conosci inscription non lo neanche conoscevo brian grazie 26 anni e che cazzo e no non mi interessa è uscita recente è bellissimo è relativamente recente sarà 2022 21 forse comunque quella è un'altra puntata sì lo so che mi guarderò perché sono fan inscription sottolinea una cosa che non è che è un problema però è una caratteristica con la quale i videogame che fanno deck building si devono confrontare costantemente e cioè dal momento in cui tu in cui non è competitivo tra due esseri umani diventa letteralmente un altro gioco nel senso inscription è letteralmente un esercizio di game design di carte riproposto in tutto il gioco tipo per 3-4 volte pensate questo gioco che c'ha delle carte beh non male che fanno le stesse cose però ogni tot in seguito ad alcuni eventi del gioco il gioco cambia radicalmente ok diventa un altro gioco è come se lo sviluppatore avesse detto guarda adesso io prendo un sistema di carte tipo quello dei TGC e ti faccio vedere tutti i modi ti faccio vedere tutti ma non cambia solo il meta cambia proprio le regole cambia il gioco cambia pure le meccaniche si si cambia le meccaniche ah wow ok cambia tutto cambia tutto c'è sta uno tra l'altro una di queste meccaniche che è uguale a Yu-Gi-Oh no non so se è proprio uguale perché non conosco così approfonditamente Yu-Gi-Oh no è quella del tu l'hai finito quella del Wizard che giochi durante il finale praticamente il problema di Inscription come quello di tanti giochi videogame di chiamiamoli deck builders è che poi trasposti in un gioco cartaceo non funzionano perché Inscription non lo puoi giocare one versus one cioè oddio lo puoi giocare ma non è mezzo rotto fidate no no hai provato sai che c'è il gioco cartaceo lo so però ti dice che non non è raccomandato giocarci one versus one come mai è perché non è bilanciato loro l'hanno bilanciato per un videogame l'hanno bilanciato per dei mob che hanno delle azioni scriptate scriptate non mi ricordo se è esattamente come Slate Aspire per cui i mob fanno solo quelle cose lì ma di base stiamo lì però la parte figa perché praticamente era come risolvere un puzzle sì però è rompibile dal momento in cui tu sai che per un puzzle può esistere una soluzione che è sempre quella lo spaccio certo io mi ricordo che era sbroccata la mantide quella tripla sì ma l'uroboro c'è una carta in inscription che aumenta il danno ogni volta che quella carta muore ed è e questo effetto è cumulativo in tutto il gioco non nella partita è come se voi c'aveste una carta the magic che ogni volta che te la ammazzano diventa più forte in tutta la tua vita io non ce l'ho mai avuto quello non ho capito è una carta speciale però l'hai schippato è una carta speciale però è una delle più fighe più forti però è un gioco assurdo all'inizio sembra un misto tra appunto un gioco di carte un escape room con layer di horror così poi scopri che Rada quello è solo il primo atto di tre o quattro tre più un ending diciamo che il secondo è totalmente un altro gioco proprio a livello visivo ma pure il terzo in realtà il terzo è molto simile al primo però con la skin ma sì a livello visivo è molto diverso però incredibile è bellissimo gioco sì sì e mi fa volare in scription perché è letteralmente un esercizio di stile di game design cioè loro non interessava veramente testare quel game design bulletproof cioè raga qui c'è poi giocare all'infinito funzionerà sempre hanno sono andati sulla varietà sulla quantità guardate in quanti modi io vi faccio funzionare questa cosa ma quando vincete un torneo voi capita che qualcuno prenda dei soldi non so parla tu vinto vinto no comunque in italia no dinamica soldi non c'è vincere i premi è illegale si vincere i premi che poi nel loro mercato possono avere x valori tipo quando non ho vinto sono erato secondo vinto un box però di box quindi comunque è un premio vincere i prodotti poi alcuni tornei però te poi riviene sì sì certo poi io non so bene in magic però in yugio non era quindi non so se è una cosa specifica a bandai però in one piece e dragon ball vinci proprio delle carte specifiche in alcuni tornei che puoi avere solo se fai quel risultato ah ok quindi con delle rarità di un certo tipo delle firme di un certo tipo una foilatura una brillantezza diciamo a me fa ride semplicemente perché una seriale ricordiamo che il gioco d'azzardo diciamo un messaggio importante per chi ci segue gioco d'azzardo è legale in italia e in tantissimi altri paesi a meno che non viene fatto in determinati posti conosciuti come casinò il gioco d'azzardo alcune volte per qualche motivo viene ricollegato a determinati giochi di carte come nel caso di Balatro non so se avete presente cos'è Balatro Balatro è letteralmente poker con le magie le relics perché fondamentalmente devi conseguire un punteggio alla fine della mano che tu raggiungi giocando le carte da poker facendo le combinazioni come in poker quindi c'è la doppia coppia bla 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 e tu devi fare una serie di punti proponendo in questo caso delle combinazioni la cosa bella è che diventa un roguelite pure questo perché dopo un po' tu cominci a prendere dei power up che però sono sotto forma di joker che ne so c'è il joker che ti dice che quando giochi una figura aumenta il moltiplicatore il moltiplicatore è quello che vedete evidenziato in rosso per cui il punteggio che fai a seconda del moltiplicatore viene moltiplicato appunto che c'è da dire c'è da dire come dicevo prima che non è un gioco one versus one qui la vera grande differenza infatti mentre ci giocavo ieri sera un mio amico mi diceva vabbè però tu stai a giocare da solo e questo in un certo senso è una grossa distinzione rispetto ai trading card games perché lo rende più un roguelike che un vero gioco di carte ma questa cosa è comune a tanti videogame che utilizzano le carte come base ma infatti secondo me i trading card games sono molto più simili agli scacchi che ad un altro gioco di carte tipo poker cioè assolutamente ma poker comunque giochi uno contro uno in ogni caso sì in ogni caso sì 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 però fighissimo che ho visto oltre ai joker pazzi tutti incredibili ci sono anche i tarocchi assurdo ma sì ma perché questa cosa ti fa pensare anche al fatto che ad esempio in The Binding of Isaac la metà dei consumable lo so carte ci stanno i tarocchi ci stanno le carte da gioco quindi l'elemento carta col videogame ha sempre avuto secondo me una relazione particolare ora non è stato effettivamente utilizzato tranne nel caso di MTGO però quello è effettivamente MagiDubber online esattamente non è stato strutturato non sono stati strutturati questi tipi di giochi come un one versus one ma la base è servita per creare qualcos'altro e questa cosa mi piace molto devo dire è come un gioco di carte all'interno del quale hanno poi aggiunto degli elementi in questo caso di roguelite e hanno tirato fuori tutto un altro gioco un altro gioco che ha proprio questa questa prospettiva iniziale cioè quello di utilizzare le carte come mezzo per fare un'altra cosa completamente è Neon White è un gioco io ho giocato nel 2023 mi ha totalmente scoperchiato la testa in realtà è un FPS cioè un gioco in prima persona non spara tutto per buona parte all'interno del quale devi speedrunnare i livelli e voi mi direte che cazzo c'entrano le carte in tutto questo io vi potrei dire non c'entrano niente ma non sarebbe la verità c'è stato pure un Kingdom Hearts con le carte ah si è vero c'è stato pure un Kingdom Hearts con le carte grande Brian che ci ricorda che è Chained Memories era Chained Memories non me lo ricordo bene sennò ve ne avrei parlato e The Witcher era anche il gioco di kart però era interno però quello era interno sì sì ma pure il gioco di kart di Final Fantasy 8 da casa se lo ricorda però quelli erano dei giochi di kart all'interno sì sì all'interno c'è questi proprio meccanismi di Kingdom Hearts in quel caso era suo era del gioco Gwent ha avuto anche è stato pubblicato anche forse separatamente mi sembra di The Witcher sì sì ha fatto proprio una cosa a parte ha spinoffato sì sì ha spinoffato ma nel caso di Neon White è un gioco appunto super veloce è uno sparatutto in cui vince chi arriva prima alla fine del livello e le carte sono le armi di base ma tu giochi contro altri player o giochi contro di base giochi contro te stesso ok cioè giochi con dei ghost ma sono i ghost tuoi ok 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 però è una cosa incredibilmente addictive perché eh infatti perché anche il decimo di secondo tu lo vuoi tagliare via capito hai ucciso il Matteo del passato sì no ma soprattutto cioè quando si tratta di un decimo di secondo tu dici beh sì se è un decimo di secondo io posso semplicemente fare una curva meglio quindi lo rifaccio subito sì 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 voglio guadagnare quel tanto e cosa ottieni cosa che ti fa dire medaglia alla fine del livello ma basta quello c'è un video di V-Dunkey che vi mettiamo sempre in fondo in descrizione che vi secondo me vi farà venire una voglia incredibile di giocare a Neon White perché lo spiega in una maniera perfetta quanto cazzo è fico il concetto e quanto è reso bene il concetto di velocità e di di fluidità anche all'interno di questo gioco e capisce anche che le carte sono solo una scusa vedi no mi ricordo è Wipeout fa paura ma è un po' Wipeout vedi il Ghost che di base è chi devi battere continuamente le carte funzionano così utilizzarle le fa sparare quindi cioè se tu c'è la carta del fucile sparerai un colpo da fucile da cecchino e invece discardarle usa l'abilità della carta che l'abilità è un'abilità di movimento quindi ti salterai più in alto ti muoverai in avanti più velocemente farai delle cose che ti consentono di muoverti più velocemente raga io vi ringrazio è stato emozionante passare così tanto tempo senza parlare di qualcosa io in prima persona e forse è la prima volta che mi succede vi ringrazio per aver fatto questa esperienza grazie a te grazie Brian grazie Giovanni ci vediamo alla prossima rega ingiocabile grazie a voi e al Discord salutiamo il Discord salutiamo il Discord giusto abbiamo creato un Discord link qua sotto link in bio ciao rega ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.